Ciao, sono Cosmo Loris da Castelfranco Veneto. Ho cercato OSM quando abbiamo avuto un momento di stasi e quindi ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho cercato e vi ho trovato. Quando vi ho trovato ho iniziato il percorso con OSM e da là è iniziata la crescita importante della carrozzeria. Ciao, sono Luciano Curpi e sono di Firenze. Ho iniziato l'OSM nel 2014. Fino a lì facevo quella vita che pensavo fosse la vita normale di un imprenditore. Stare tutti i giorni in azienda, arrabbiarsi tutti i giorni, avere sempre la vena tappata fino a tardi e poi invece lì ho capito che non avevo capito nulla. Ho imparato a premiare gli uomini, dare degli obiettivi, dare una mission, una vision e le cose stanno andando molto bene e sono più libero per la mia famiglia. Ho lavorato come prima cosa su di me, su quelle che erano le mie aree di miglioramento e su perché non riuscivo a fidarmi delle persone, a delegare la mia azienda e quindi dopo una volta che lavori su questo e capisci che tu stia sempre in azienda, la conseguenza è il fatto che non ti fidi, inizi a lavorarci. E quindi una volta che ho iniziato a formarmi, a seguire un po' dei corsi, tutto si è mosso e neanche ci credevo. Le cose vanno molto bene, abbiamo più tempo per noi, l'azienda fa degli utili importanti, stiamo aprendo nuove filiali e ho più tempo per la mia famiglia.